Stiamo parlando di un evento importantissimo, ormai rodato negli anni. Quest'anno siamo riusciti, grazie allo studio con la federazione, con Duccio Bartalucci, a creare una novità, che è quella di inserire 10 cavalieri in una sorta di small tour. Quindi è una comunicazione ufficiale che i cavalieri da 50, come gli altri anni, passiamo a 60. Questi 10 cavalieri sono 10 cavalieri ovviamente italiani, che potranno partecipare a questo small tour con un solo cavallo. È stato dato molto risalto ai giovani. È una, tra virgolette, furbata che avevano fatto i tedeschi lo scorso anno. Io me ne sono accorto, avevo già scritto immediatamente alla FEI l'anno scorso per dire che era una cosa che forse avremmo voluto fare anche a Verona e quindi c'è stata l'occasione per riproporla. Affronterò sicuramente con lo stesso spirito, concentrazione e voglia di far bene sperando appunto di potermi ancora migliorare rispetto all'anno scorso. Chissà, non essere solo il migliore italiano ma il migliore del Gran Premio. Mi auguro quello sinceramente. Grazie.